Benissimo, abbiamo visto un simpatico siparietto, lo potremmo chiamare Miseria e Nobiltà e parlando di Miseria e Nobiltà ci ricordiamo del grande Totò, il famoso film con Sofia Lore. Bene, sempre Totò interpretò in un film, San Giovanni Decollato, Mastragostino, e cantava quant'hai vent'anni di ci vuole la mogliera per aumentare la famiglia di papà, molti se lo ricorderanno. L'attività di Mastragostino ci porta un po' ai misteri, che hanno tante caratteristiche oggettive, ma talvolta ci sono degli imprevisti, delle situazioni soggettive che sono oggetto del protagonista del prossimo sketch. Buon divertimento. Sì, è arrivato Sola Gianella, Sola Gianella signora, e accorci scarpe, scarpone e scarpette. Nobiltà si sembrava che l'aspetto. Sotto un pix notizontaggio. Kriz tendono assaggiate le strumenti più economiche per aumentare la famiglia di mar Gul uno con il gratinadore e lo curriculum. Ah, a proposito, Mugelema, Mugelema, fammi chiamare Mugelema, che lancia la luce in Mugelema, che lo... Ah, che bella? Che non so l'insalanuto, è pura sorda, che bella? Eeeh, e ora mi chiamo una roba, in questa casa io faccio l'altra di pazza. Che ditte, stai parlando con lo pazzo? Spira dai vecchi, li vado vicino a chi lo bagnatello, io li mi dà che mi ha mangiato. Che ditte, parla di giuffo, ti capisco. Ehi, c'è un cannone, perchè lo fa sentire a te. Io vado vicino al suo bagnatello. Che ditte, vado a prenderlo? Ma che me lo faccio, prenderlo? Accattatelo, l'amoriforme, che lo cosa che si mette in l'orecchia? La cosa che si mette in l'orecchia? Eeeh, eeeh, chi lo dà? Giovetta sorda, io ci sento buono o so? Come no, tu tieni l'orecchia con i pescicamenti. Che hai fatto? Hai tagliato l'orecchio il cane? No, io c'è tagliato l'orecchio il cane. C'è un cuore che ha dispato? No, no, te lo faccio vedere la palla. Ah, te l'hai venuta vogliare la sale e la palla, eh? Favare la cucina, va? Eeeh, voglio mangiare, voglio mangiare. Mi è venuto sfizio a mettermi te la pizza. Che puoi mettere? Ma come? Tu sei fatta vecchia e sei prezioso ancora. Che capito? Hai giusto che voglio fare pizza? Eeeh, tu metti una pizza. Eeeh, pizza! Voglio fare pizza! Eeeh, pizza! Eeeh, hai capito? Hai visto che sono assurdo? Eeeh, che lo so sta pulito, eh? Sono buono, sono buono. Sì, sì. Come ho avuto una pommarola? C'ho una con la Nicola. Ma qua Nicola e Don Francesco. Ah, vuoi mettere il pommarolo fresco e ehm ehm, faci una bella insalata, faci. Ah, ma quelle insalata? Le faccio a canna nesso per questi colpi. Faccio a canna nesso per questi colpi. Faccio a canna nesso per i fessi. Ma tu mi sai che puoi fare? Eh? Adesso ti faccio questa brioche. E poi tu pure ti faccio il coso, vuoi che te faccio una rattata. E tu ti amo fare? E tu? E tu? Ma la storia è sempre la stessa. Te voluto prendere con il papà di te. Eh? E poi se che non vuoi scappare, eh? 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 E ho fatto la prima pieta. E scappial, a me? Eh? Sio. Pa facciatori. Ma sai che ne rodi? Ma come mi va detto a me, non vuoi sposarti? Ma come mi va detto a me questo capriccio? Ah, ti è venuto eh? Ho voluto e non vuoi che i salsicci, ti è venuto. Ma i salsicci? Eh? Eh? E me, a base che questo non ci sento e mi fa la dispiare. Ah? O salsicci o vuoi andare ritori e tu vuoi ruoti? Ma la storia è morta, non già faccio più. Ah? Le hai fatte la morta e ora non lo fai più, eh? Eh? E poi andare a presto, un frutto. Ma che hai capito? Ma che hai capito? Che hai capito? Ho già capito il vino, eh? Se no mi metto il canale in due cesso. Ma che hai capito il vino, non ti finisci a preparare. Ma vabbè il vino. Ma? Va. Fa un presto. Ho già capito il vino? Eh? Se no mi mette i cani per i due cesso. Che è lo che ha detto, esci o a te che la se ne è vecchio. Che hai detto? Ho già detto. Fa un presto. Fa un presto. Ehi, ho già capito. 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 Ehi, ho già capito. E' il tepico sul sud, ha già pigliato un fraschirino che sta da le tue cesse, e ha già pigliato, ma mi chiede così sul sud, ma mi chiede.